Non si ferma la marcia della Sansovino che piega anche lo scorbutico. Grassine si avvicina sensibilmente alla capolista Africa nella promozione Girone C. I fiorentini sono stati battuti in casa dai cugini del Montagnano. La formazione di Enrico Testini ha ottenuto una vittoria importantissima per la sua classifica. Lo scontro diretto sarà decisivo ma per arrivarci sarà necessario essere nella migliore condizione possibile. La squadra Aranciun Blu deve arrivare dunque nella condizione psicofisica tale da poter ristiare il massimo. Non c'è dubbio che adesso le cose dalle parti delle fonti stiano marciando nella maniera migliore. Decisiva la rete di Nicola che ha indovinato un grandestro dai 20 metri che ha fatto secco il barboportiere del Grassi da Bartoli. Non sono mancati momenti di grande interesse. Merito anche della formazione avversaria che ha avuto una bella reazione impegnando la difesa Aranciun Blu in due occasioni. Ma anche la Sansovino ha costruito alcune ripartenze di grande rilievo. I fiorentini poi hanno colpito il palo con caschetto ma la Sansovino non è stata a guardare nel finale con Pascucci. Ha sfiorato il raddoppio negato dalla bravura del portiere avversario. Alla fine la festa è tutta Aranciun Blu. Da Firenze le buone notizie sono arrivate con il timbro dei Cugini del Montagnano.